Salve gente! Allora, negli ultimi due giorni tante domande da parte vostra su Instagram, nostra famosa 76, ricordo per chi volesse fare ancora domande, riguardanti le parole, le dichiarazioni prima di Sarri, poi di Tare, poi in realtà Sarri che diciamo è un botta risposta cottare, lo Tito che interviene e dice la sua e cerca di mettere un punto alla situazione e chiarire un po' le dinamiche di quelle che sono gli obiettivi della Lazio, insomma tante domande che mi avete posto proprio su questi argomenti e su queste dichiarazioni. Ho già risposto, ho già detto la mia, anzi devo dire sono state lunghe le risposte perché non era facile argomentare con, diciamo, chattando tramite messaggi, per questo vorrei scoprire un video dove magari riesco a essere, spero, un po' più chiaro di quelle che sono state le mie risposte e insomma è un video che potete vedere tutti voi anche se non siete iscritti ad Instagram. Invece intanto iscrivetevi qui comunque su questo canale dove voi vedete, insomma, i video li faccio proprio per voi quindi quantomeno provate a iscrivervi e seguire il canale, potete sempre disiscrivervi quando vi pare ragazzi, quindi provateci, se poi non vi piace vi disiscrivete. Intanto provateci, cliccate sulla campanellina per rimanere ragione su tutti i contenuti e sempre comunque un like, vi prego, se insomma il video l'avete seguito, insomma ecco magari fatelo subito per non scordarvelo, lasciate un like comunque prima di abbandonare, questo e gli altri video che andrete a vedere. Allora ragazzi, cosa è successo? Io penso che ormai, visto che già da qualche giorno se ne parla, poi l'ultimo in ordine cronologico è stato l'Otito che ha fatto un po' la chiusa di questa discussione, faccio un piccolo riassunto, ma poi nel video in realtà andremo a parlare anche di altre dichiarazioni perché a questo punto ne parlo un po' di tutte, che avevo un po' tralasciato, non ho voluto approfondire anche quelle di Sarri prima del match contro il Sassuolo, adesso riprendo un po' tutto. Comunque, diciamo, quelle dove voi mi avete fatto domanda era più che altro il discorso che secondo Sarri è un miracolo se questa Lazio centra il quarto posto, Tare invece dice che è stata costruita una Lazio e lui è affiducia a questa Lazio, quindi è stata costruita proprio per centrare questo obiettivo e ha tutte le caratteristiche, tutte le potenzialità per centrarlo, insomma per lottare e quindi non è un miracolo. Siccome che è uscito fuori, insomma, si è visto quasi che era un botta e risposta, poi Sarri ha risposto nuovamente, che lui ragiona con la sua testa, non è che deve stare nella testa di Tare, se Tare ha un'altra opinione per lui, per lui invece è giusto che è quella. Insomma, per fermare un attimo questa discussione ma soprattutto per quelli, per i giornali che ci stavano un po' ricamando sopra, ha fatto prima una lunga lettera, una lunga intervista dove appunto spiegava che la Lazio è una grande famiglia, insomma è una lettera penso copia e incolla di ogni anno, quando non escono problemi, che si è una grande famiglia, che è un grande club, ci sono stati grandi investimenti tra lì, tra lì, tra lì, tutta stai cazzate qua, e poi ha rifatto un'intervista dove ha spiegato ulteriormente che la Lazio ha investito 60 milioni proprio per creare una squadra per arrivare al quarto, l'obiettivo del quarto posto, quindi la squadra c'è, non ci sono alibi e penso che questa sia stata, diciamo, un'ulteriore sottolineatura verso l'allenatore. Questo è un po' il sunto, poi andatevi a riprendere le dichiarazioni, gli articoli, le cose sono ancora reperibili, insomma, sono di questi giorni. Cosa ne penso a questo punto di tutto questo teatrino che si è creato? Perché ovviamente è un teatrino che in realtà non nasce adesso, perché queste discussioni, se la squadra c'è, se la squadra non c'è, se Sarri ha qualche colpa a Sarri, colpa a stare, ce la portiamo da quando è arrivato Sarri praticamente, e secondo me è evidente che ognuno ha le proprie responsabilità e le proprie colpe. Partiamo dagli ultime dichiarazioni e comunque, diciamo, dalla punta dell'iceberg, quella che dovrebbe vedersi, che poi in realtà non è la punta, perché poi il grosso lo dovrebbe risolvere lui, quindi lui è sia la punta che la base dell'iceberg, inizia e finisce con l'otito il discorso. L'occasione l'otito, lasciamo perdere la lettera dove parla di famiglia, dove in una famiglia ci possono essere discussioni punti di vista diversi, l'importante è avere un obiettivo comune, il problema è che questo obiettivo comune pare che sia, cioè, è proprio quello il problema, nel senso che Tare e l'otito dicono di aver costruito la squadra per il quarto posto, adesso vi dico se secondo me è vero o non vero, e Sarri invece la dichiara un miracolo. Allora, e comunque lui dice, aggiungo anche questo, che lui dice, non capisco perché, ma poi arriviamo anche a queste dichiarazioni, fino adesso il quarto posto è sempre stato, cioè, a parte una volta, non è stato mai centrato, comunque è sempre stata una società che non ha mai lottato, diciamo, in modo continuo per il quarto posto, adesso perché? Perché io perdo con il Lecce e con l'Empoli, praticamente, stiamo lì quinti e ridosso il quarto posto tutte queste critiche. In realtà, ripeto, l'otito di tutto quello che ci racconta, che è una grande squadra, così è, va dimostrato con i fatti, adesso, aver speso quest'anno 50 milioni, non è, anzi lui ne parla di 60 addirittura, ma io non sono riuscito a capire onestamente da dove escono fuori, però se lui ne parla di 60, diciamo 60 milioni, quindi è peggio mi sento, è chiaro che è stato costretto perché? Perché mezza squadra, per loro colpe, perché non erano in grado di rinnovare, fare i rinnovi giusti, hanno fatto contratti lunghissimi a giocatori inutili, hanno fatto contratti in breve o comunque non si sono riusciti a trattenere giocatori che magari erano più funzionali, insomma, per una serie di vicissatutini siamo arrivati che praticamente mezza squadra se n'era andata, quindi eri obbligato a spendere, non è che tu hai speso d'iniziativa dove c'era una base di squadra già forte e tu a quella hai speso 60 milioni per migliorarla, no, hai ricreato una nuova squadra o comunque una parte di squadra. Molti hanno detto, anzi, fortunatamente se ne sono andati perché questi nuovi, andiamo a rivedere tutte le interviste, tutti i video YouTube, dei vari YouTube, tutti dicevano che in realtà questa squadra è meglio per Sarri rispetto a quella che lui ha ereditato e che quindi è tendenzialmente, tra virgolette, più forte rispetto a quella che era lo scorso anno e quindi lui dice, io ho speso tutti questi soldi, comunque a prescindere dal perché o non perché, in ogni caso li ho spesi per creare quello che allenatore serviva per arrivare al quarto posto. Tare conferma, anche perché è lui poi a proporre certi giocatori, perché anche qui sul mercato qualche cosa è stato accontentato Sarri, qualcosa Sarri ha dovuto accontentarsi lui nel senso che ha dovuto accettare magari alternative a quelli che erano giocatori che lui aveva proposto. Comunque c'è stato un mix di accordi tra giocatori arrivati e giocatori che non sono arrivati, però potenzialmente i ruoli sono stati coperti. Per esempio Cancellieri, la società stava cercando di proporre e di arrivare, secondo me magari non ci sarebbe arrivata, però dice che c'era in pugno, molte persone hanno detto no, lo avevamo in pugno, era fermo, era ormai quasi fatto, Simeone e invece Sarri ha scelto, ha chiesto, come adesso anche qui Sarri ha dichiarato ultimamente che visto come si muove bene Felipe Anders, come sta imparando a stare lì davanti, lui preferirebbe avere un'altra scelta, tipo Ilmaz, ma lo dico io questo, non ha detto lui, che gli è piaciuto, un'inamichevole col Galdasarai, ovvero uno che gioca ala, che può fare anche il centrale. Quindi un altro esperimento alla Cancellieri. E Cancellieri è stato un progetto che lui ha avallato, nel senso che abbiamo preso un giovane di prospetto, solo che gli devi insegnare a fare il centrale, sembrerebbe che insomma sono andati così. Comunque diciamo c'è stato un accordo per il mercato. E Tare quindi avalla il fatto del Presidente, ha detto sì abbiamo fatto, anche perché l'ho scelti io i giocatori, quindi tipo Massimiliano, Gilas, i giocatori qua l'ha scelti ovviamente Tare, perché Sarri non sapeva manco chi erano. Sarri però ha detto vabbè vanno bene, però è importante che prendiamo i ruoli che mi servono. Quindi c'è stato, le famose cene, pranzi e telefonate, è stato per costruire questo mercato. E tutti, alla fine di questa estate, tutti, allenatore, DS, proprietà, youtuber, giornalisti, deduti, hanno detto che il mercato è stato fatto sulle direttive di Sarri, anche se i nomi non erano esattamente tutti quelli che è indicati da Sarri. Quindi anche Tare diceva l'abbiamo fatto, l'abbiamo detto, era tutto creato per ovviamente fare meglio degli anni scorsi, perché altrimenti non ha anche senso avere un allenatore che se non fa meglio degli anni scorsi, per arrivare a questo famoso quarto posto, anche per entrare dei soldi. E poi invece Sarri, che secondo me è quello che alla fine, di Lodito ormai conosciamo tutto e sappiamo tutto e critichiamo tutto, di Tare sappiamo tutto e critichiamo tutto, di Sarri invece non si può mai, cioè io critico, non me ne frega niente, lo sapete, mi avete criticato anzi voi a me perché io lo criticavo lui, ma a me me ne fotte i cazzi, perché? Perché Sarri per me è quello che sbaglia più di tutti, uno, perché a me se non ho concesso che tu realmente hai la visione che potrebbe essere giusta, che è un miracolo arrivare al quarto posto, ma non lo devi dire, perché tu ti stai creando un alibi tu, stai già creando un alibi ai giocatori se non fanno quello che fanno, cioè il famoso mentalità vincente, lui parla rompe tanto il cazzo giustamente della mentalità, però lui poi non perde mai occasioni di dire, ah no perché noi non ce la facciamo a fare tre partite, è perché era una squadra che per miracolo arriva, io capisco che il suo obiettivo è stuzzicare la società, però tu con questi interventi fai vedere proprio che non ci credi, che ti serve altro, ti serve sempre altro, cioè non lo so, per me ha sbagliato a dire, cioè se c'hai le palle vai, la società gli dici voglio questo, questo, questo e non arriviamo, altrimenti non fai questi giochetti sottili, vai, se vuoi fare uno con le palle, vai al giornalista e dici guardi io alla società gli ho chiesto i giocatori, perché io ho detto che con questa squadra al quarto posto non ci arriviamo, e mi hanno detto che non si può fare, così devi fare se c'hai le palle, non questi giochetti fini che da noi tifosi dall'altra parte mi fai vedere che casca le palle, eh no, un miracolo al quarto posto, e mo' vediamo per le altre competizioni, perché tre competizioni non siamo organizzati, allora, io sono d'accordo con Sari quando dice che non abbiamo una rosa per fare tre competizioni, ancora non l'abbiamo, e sono d'accordo. Sono meno d'accordo quando dice che un campionato come questo, dove abbiamo visto come è la Juve, abbiamo visto come è l'Inter, abbiamo visto come è la Roma, abbiamo visto un po' insomma tutte le squadre, che è un miracolo arrivare al quarto posto? Non credo che sia un miracolo, assolutamente non credo, non si sta chiedendo di vincere lo scudetto, e qui aggiungo anche tutto quello che ha detto Sarri prima della conferenza, prima della partita col Sassuolo, ovvero che lui comunque ha ereditato una situazione dove comunque ha una squadra che negli anni ha fatto solo un quarto posto, quindi cosa volete? Allora, siccome che lui parte sempre io ho ereditato questa cosa, io ho ereditato questa cosa, come ad esempio Luis Felipe, io ho ereditato questa cosa, lui voleva già andare via prima, allora intanto su Luis Alberto, il discorso è diverso, perché comunque se tu il giocatore lo metti al centro del progetto, magari questa fantasia di andare via potrebbe cambiare, invece lui ne manca arrivato, ha detto già che non potevano giocare insieme, quindi uno dei due tra Milinko e Luis Alberto avrebbe dovuto fare per forza panchina. Poi tutta la prima fase dello scorso anno, praticamente l'abbiamo visto come è stato utilizzato, addirittura molti di voi volevano che se ne andasse realmente, io ho cercato di difenderlo, ma niente, anche il Lazari che non poteva fare il terzino assolutamente, io ho cercato di difenderlo fino all'ultimo e poi si è scoperto che il terzino lo poteva fare benissimo. Poi a gennaio è stato utilizzato Luis Alberto e ha ripreso quota, quest'anno abbiamo fatto lo stesso da Trino, tutto, no Luis Alberto, no 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 no, adesso Luis Alberto, questo Luis Alberto per me è perfetto, cioè Luis Alberto è Luis Alberto, non è perfetto, cioè non è che, ma già l'anno scorso aveva leggermente migliorato, non è che adesso due settimane fa era una pippa e ora due settimane è diventato il fenomeno, Luis Alberto, Luis Alberto, il problema è saperlo e volerlo utilizzare, cosa che da Sarri non l'ha fatto. E quindi voglio dire, tu hai ridato il problema, sì ma lo devi anche gestire questo problema, e poi vorrei dire al Carlo Sarri che tu hai ridato una squadra che comunque sì, ha fatto un quarto posto solo, e a parte che è arrivata due volte quarta, solo che l'altra volta insieme all'Inter a parità di punti ci sono state delle differenze credo dei scontri diretti, perché proprio sappiamo come è andata a finire quella partita con De Vrij che aveva già firmato per l'Inter, che fa quel rigore e fa vincere poi l'Inter, quindi lasciamo perdere quella cosa. Quindi diciamo che comunque a livello di classifica c'abbiamo due quarti posti, poi uno è servito per entrare in Champions, l'altro purtroppo per scontri diretti non centrata, però era stato centrato il quarto posto, quindi Cari Rosari sono due. E poi tu hai redditi Cari Rosari, una squadra che però, mentre faceva questi quarti posti, in questi anni ha fatto delle finali di Coppa Italia, ha vinto una Coppa Italia, ha vinto due Supercoppe italiane, è andata in Champions, ha superato il girone di Champions, invece tu so, qui so, due anni, è arrivata ai quarti di Europa League, insomma, da qualche parte, o un po' in Europa League, o in Coppa Italia, o comunque in campionato, un anno qui, un anno qui, un anno lì, un pochetto di competizione c'è stata. Quindi tu, tra tutto quello che hai reddito, hai reddito anche questo, cioè una squadra che comunque aveva dimostrato sul campo, che messa in un determinato modo in campo, poteva anche arrivare alle finali di Coppa Italia, superare comunque il girone di Europa League, se gli andava, perché pure lì non è che abbiamo sempre fatto bene, la squadra, proprio poco prima che tu la prendessi, aveva anche superato un girone di Champions, invece tu hai preso una squadra che non gli hai fatto, l'altro anno l'hanno fatto per otto della cuffia, l'hanno superato il girone, proprio l'hanno perso subito col porto, quest'anno siamo riusciti manco a passare all'orgirone, te sei sempre alla metà che non puoi fare le cose, mo io vedo in Coppa Italia come andavo avanti, cioè quello non l'hai reddito, cioè tu devi reddito una squadra e tu sei stato preso per fargli fare il salto di qualità, quindi è una squadra che è normale che ti viene chiesto di arrivare a quarta, perché se era una squadra che arriva sempre quinta, sesta, quarta, quinta, sesta, no? Comunque quelli erano gli obiettivi, è normale che a te che vieni pagato il doppio d'Enzaki, se non il triplo, tu che è il maestro dei calci, tutto quanto qui, poi vieni qua e vuoi fare, e no io voglio essere trattato come Enzaki, e no, e no, perché Enzaki veniva trattato anche perché portava dei trofei in un certo modo, e poi non c'aveva esperienza, lui stava facendo l'esperienza con la Lazio, tu vieni con lo Scudetto, con l'Europa League, con tanto Super Napoli così, e poi pretende che no, perché a me mi attaccate? Mi attaccate sì, perché poi il discorso che fa, eh ma stiamo lì al quinto, se la stiamo combattendo, stiamo facendo il campionato come gli altri, non è vero, perché Roma, Atalanta e Inter, che ti stanno a pari punti e sopra, tu gli hai preso tre punti, perché tu hai vinto con tutte e tre, e nonostante questo te stanno attaccate due, e l'altra se ne è andata avanti, quindi vuol dire che loro stanno facendo meglio di noi, allora se permetti sono preoccupato, se permetti ti critico, perché non può fare le cappellate che ha fatto a Lecce, con i cambi, anzi, si è scoperto che lui, questa cosa che lui ha detta come giustificazione, mi fa ancora più incazzare, non so se l'avete sentito, lui ha dichiarato che praticamente a Lecce il cambio di Milinkovic è stato un errore, perché lui non aveva chiesto di farsi uscire Milinkovic, adesso non so chi voleva farsi uscire, solo che si è distratto, cioè tu dimmi che cazzo devi fare se non assicurarti che le cose vengono fatte correttamente, vieni pagato per questo, lui si è distratto a vedere un'altra cosa, è stato fatto il cambio per errore di Milinkovic, che non sarebbe dovuto uscire, infatti ve l'avevo detto che era logico non farlo uscire, invece me l'avevo detto no, perché, ammazza, stava a giocare malissimo, sì, ma se vuoi recuperare almeno una spizzata di testa, come poi è successo anche col sassuolo, magari da un carcio d'angolo così, ma chi t'ha a fare se non Milinkovic? E si è scoperto che lui si è distratto, si è distratto, ma poi cazzo fa uno, nel momento decisivo, quando devi fare scelte importanti, tu ti distrai, ma, quindi caro Sarri, ripeto, per me Lo Tito chiacchia, perché Lo Tito, sì, parla, 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 ma ha detto pure che adesso avrebbe da stare tranquilli, no, che ci avrebbe pensato lui, beh, immobile sembrerebbe che manca almeno due settimane, quindi no che gioca forse col Milan, no, manca due settimane, quindi non lo vedremo, probabilmente, né in Coppa, né col Milan, né con la Fiorentina, e forse anche in ritorno all'altra Coppa. Italia, Europa League, che cazzo prendemo? Vestate a move? Dovrebbe già arrivare qualcuno subito, la risposta di Lo Tito dove essere già adesso? E tare, tare, chi stai contattando? I soliti nomi così o stai seguendo qualche indicazione di Sarri? Ognuno ha le sue colpe, ma tutti dovrebbero solo che stare zitti e lavorare e far vedere solo con il loro lavoro come vanno le cose, non a chiacchierare davanti ai microfoni, perché chiaramente io di sentire Sarri che dice certe stronzate, Tarri che dice certe stronzate, Lo Tito che dice certe stronzate, mi sono anche rotto le palle. Fate il vostro lavoro in silenzio, il campo parla per voi, perché se la squadra è una squadra di merda si vede sul campo, se l'allenatore è un allenatore che non sa fare il suo lavoro lo vediamo sul campo, se la società è una società che non riesce a centrare gli obiettivi è perché c'è una proprietà che non è in grado di fare la proprietà. Queste cose le vediamo però con i risultati del campo, sentire a voi è una cosa proprio deprimente, mi fate cascare le palle. È una cosa deprimente, perché vomitate sempre le vostre discussioni fra te voi e vomitate su un microfono creandovi alibi ognuno per sé, ognuno ha il suo alibi, ognuno dice le sue cose. Altro che dice che è una famiglia e remiamo uniti, ma remiti di che? Se state sempre allamentate, state sempre allamentate tutto, invece qui bisognerebbe stare in silenzio e parlare con i fatti e sul campo. E su quello non critichiamo e continuerò a criticare sempre, perché questo canale nasce come il canale di critica, se c'è da criticare. E mi sembra che da quando è aperto dei motivi di criticare me ne avete dati tanti, nonostante sono stato attaccato e riattaccato, perché per voi qualsiasi cosa va bene, tanto perché è Lazio, io amo la Lazio, è per questo che la difendo e la critico quando c'è di criticarla, perché la difendo da sta gente che la usa per giustificare le loro incapacità. Ragazzi ci vediamo presto un prossimo video, vi dico che domani parto, sto una settimana fuori e probabilmente quindi questi giorni, le prossime partite la vedrò da fuori e se riesco farò un video, insomma, da dove sto in questa settimana, ok? Vi faccio sapere e ci vediamo presto, olive dolce!